L'incidente è una serata di venerdì 15 dicembre intorno al 22 a Feletto sulla provincia del 460. Una Renault Kangoo guidata da un uomo classe 1988 residente a Feletto è uscita di strada e si è fermata sul bordo del fossa che costegge la careggiata dopo aver impattato violentemente contro il ponticello in cemento di un'abitazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavesi di Bosco Nero, le ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte e della Croce Rossa di Ligni oltre ai carabinieri. L'uomo dopo le prime cure è stato trasportato in ospedale, la dinamica è al ballo dei carabinieri. Grazie a tutti.